Come va dentro Maurizio? Come va? Beh i galleggianti sono fuori acqua, quindi la barca adesso sta galleggiando. Nei giorni scorsi ho chiuso, ho cercato di chiudere il più possibile. Però i galleggianti non stanno ancora lavorando. Guarda l'acqua come viene da qua, guarda che è un fiume. Funziona una pompa? Si, 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 pochissimo. Sì, qui vogliamo un'idrovora del po' che vogliamo. Ecco,